Fare delle comunità locali luoghi di cultura e di sviluppo economico, maturare un nuovo approccio, la gestione unitaria del centro Abruzzo, elaborare una visione condivisa del territorio, costruire un programma d'azione comune e integrare le politiche settoriali. Sono questi alcuni suggerimenti che arrivano da Convesercenti e Cescot in vista del patto territoriale che il sindaco di Sulmona Peppino Ranalli ha intenzione di siglare con i sindaci del territorio, prendendo sfondo dalla delibera della giunta regionale tematica. La Convesercenti e l'Officina dei Sapore ritengono molto interessante l'iniziativa del sindaco di Sulmona di convocare tutti i sindaci e le parti sociali del territorio del centro Abruzzo in un incontro previsto per il prossimo 1 luglio, fanno sapere in una nota Angelo Pellegrino e Pietro Leonarduzzi. Le stesse organizzazioni da tempo stanno raccogliendo adesioni al cosiddetto patto per le città, al quale già molti comuni hanno aderito in funzione di un grande lavoro di rete tra soggetti pubblico-privati per lo sviluppo organico del territorio. Il centro Abruzzo, si legge in una nota, si è contraddistinto storicamente per la presenza di un forte tessuto in campo economico, imprenditoriale e sociale. Nel recente passato sono state proposte una serie di iniziative che potrebbero contribuire alla costruzione di reti territoriali e intersettoriali e all'attivazione di laboratori di coprogettazione della cura e rigenerazione dei beni comuni e di governance locale e collaborativa. Queste sono azioni che elevano il patto a metodo di governo dello sviluppo locale e a strumento di miglioramento della qualità della stessa democrazia locale, si legge ancora nella nota. Secondo come Sercendi e Cesco, è indispensabile fissare gli obiettivi chiari e misurabili, in relazioni ai quali definire le azioni in favore del centro Abruzzo. Grazie a tutti.